Ben ritrovati in questo periodo estivo, un periodo di tormentoni, si sa, ma a volte anche di revival, se così possiamo definirli. Come nel caso di Amore No di Adriano Celentano, che è tornato virale dopo 45 anni grazie a TikTok. Il brano è diventato infatti un vero e proprio tormentone estivo e per settimana il remix è stato al primo posto della classifica 800 Italia della piattaforma ed è così diventata la canzone più utilizzata nei giorni scorsi dagli utenti. TikTok, il social media amato dalla generazione Z, una piattaforma che negli ultimi anni ha contribuito al successo dei brani ai vertici delle classifiche ha reso infatti contemporaneo proprio un singolo che parla il linguaggio delle generazioni più giovani. Si è trattato di un trend che ha continuato a crescere anche sulle altre piattaforme digitali, dove il brano ha superato il milione di stream totali in poco tempo oltre ad essere poi entrato in rotazione radiofonica. Sui profili social di Adriano Celentano, cioè Instagram e TikTok, è stato pubblicato un video proprio by Adriano, un inedito mashup di immagini dai molteplici contenuti prodotti dagli utenti, in particolare proprio della generazione Z e una performance televisiva storica di Amore No. Ma che cosa ricordiamo della canzone? Beh, sicuramente che è stata cantata proprio da Adriano Celentano nel 1979, tratta dall'album Soli ed è stata scritta da Cristiano Minellono, mentre la musica è composta da Toto Cotugno. Il brano racconta un umore perduto e il dolore della rottura. La nuova versione è stata remixata dal producer Pinaxal. Intanto, prima di riascoltare insieme questo brano, ecco che vogliamo ricordare che lui, Adriano Celentano, si era reso protagonista della cronaca anche a giugno scorso, quando il celebre molleggiato della musica italiana era finito al centro di una bufala, che lo dava per morto. Beh, non è la prima volta che il cantante, attore, personaggio televisivo viene coinvolto in notizie false riguardanti proprio la sua dipartita. Recentemente una nuova ondata di fake news ha fatto il giro del web, sostenendo che il cantante fosse deceduto. Titoli come è arrivato il suo turno, è successo troppo in fretta, hanno alimentato il panico tra i fan, che temevano per la salute del loro idolo. Queste notizie però sono state prontamente smentite. Celentano è vivo, Vegito ha affrontato la situazione con la solita sicurezza e naturalmente ha pensato di postare sui social un segno scaramantico, quello delle corna, in risposta alla bufala. Lui, nato a Milano il 6 gennaio del 38 da genitori di Foggia, ha iniziato la carriera a soli 20 anni e poi da allora ha conquistato il cuore degli italiani, non solo come cantante ma anche appunto come attore, cabarettista e personaggio tv. Nella sua carriera c'è stato posto anche tra le tante per la canzone Amore No, che è quella con cui abbiamo aperto questo spazio e con cui lo chiudiamo ascoltandola insieme. A presto!